Quante volte da bambini avete desiderato di costruirvi un fortino nelle scatole di cartone, eh? Sempre, sempre! Io l'ho fatto un sacco di volte. E questa volta però sarà ancora più bello e poderoso. Ognuno di noi dovrà proteggere il cuore della sua base, che è quello shulker box azzurro per loro e questo arancione per noi. Abbiamo sei minuti per costruire la nostra base di cartone. Quello che riuscirà a farla più difensiva probabilmente avrà la vittoria in pugno. Siete pronti? Prontissimi? Assolutamente! Ma se non ci fosse questa barriera... Spacco la faccia! Dagliele, dagliele, mamma mia! E ho paura di colpire te. Dai, tu fra sei minuti la barriera invisibile cadrà e lì saranno sonore e botte con la mia spada e arco di cartone. Eccoci qua, Ferre. Allora, è davvero difficile questa sfida perché abbiamo una particolarità importantissima. Noi non abbiamo dei blocchi per costruire, ma dobbiamo prenderli, Ferre. Cioè tu ti devi avvicinare a una scatolone e prendertelo in mano. Lo so, lo so! E poi piazzare. E abbiamo solo sei minuti, quindi io inizio ad avviare il timer con il mio bellissimo telefono, però in sei minuti non so cosa riusciremo a fare. Allora, facciamo così. Tu provi a fare una forma di costruzione per il fortino, ok? Una sorta di piccola base per difendere appunto la nostra sugar box. A me lasci le cose più difficili! E io faccio una sorta di piccola muraglia, va bene? Ok. Ok, muoviti. Allora, ma lo facciamo attorno alla scatola oppure spostiamo quella nostra sugar box? Possiamo anche spostare la scatola, possiamo fare quello che vogliamo. Quindi per ora fai un fortino, va bene? Ok. Io cerco di fare veloci... Ferre, dobbiamo essere veloci. Sei minuti sono pochissimi. Stanno facendo più o meno la stessa identica tattica, però... Eh, ho notato, ho notato! Mi sembrano un po' più veloci di noi. Non so perché, ma mi sembrano più veloci di noi. Questo può essere un problema, Ferre. Allora, velocizziamoci, Stef. Ma come facciamo? Velocizziamoci perché non va bene questa cosa. Io sto cercando di andare veloci. Ma è solo abbastanza lento. Ti dico, giusto è che è passato un minuto e trenta di sei minuti. Ok, perfetto. Quindi comunque diciamo che ce n'è tempo e possiamo fare un buon lavoro. E visto come siamo armati, sì? Sì. Abbiamo un arco con 64 frecce che comunque non sono troppissime. Una spada in cartone che non credo che farà molto danno, Ferre, quindi potrebbe essere... Però dai, aspetta. Se io prendo un pezzo di cartone bello rigido e te lo do in faccia, secondo me non è che... Non mi fai nulla. No, secondo me non è che rimani proprio tranquillo. Rispetto a una spada in pietra. No, io penso che ti faccia un po' male, Stef. Vuoi provare, Ferre? Vai a costruirla una in cucina loro, vai. Ferre, stiamo andando abbastanza bene, ma manca soltanto un minuto e trenta. Oh, cavolo, di già! Allora, io inizio a spostare la shulk box qua dentro, così continuiamo a costruire. La shulker box, Stefano. La shulker box, giusto? Non mi sbagliare i nomi, ti prego. Ferre, ho qualche problemino, lo sai che non sono bravo con i nomi. Comunque ti dicevo, più o meno manca un minuto. Fra poco vado anche ad avvisarli di sotto perché manca davvero poco tempo. E il mio domanda è non chiudere quest'ultimo blocco, ok? Eh, esatto. E continuiamo a costruire. Cosa sta succedendo? Manca soltanto trenta secondi, quindi... Davvero? Qui bisogna muoversi. Eh, no, io ho messo il timer e l'ho messo anche dopo un pochino e manca davvero poco. Oh, capro. Vabbè, vabbè, vabbè. Voi avete già nascosto la vostra shulker box? Sì, è nascostissima. Non la troverete mai. Ok, ok. Secondo me sai che tu sei un farlocco, secondo me. Perché? Perché tu... Eh, adesso te lo spiego, perché secondo me... Sì. Voi avete fatto tutto il castello, no? Ok. Sì. E la shulker box non è lì. Mmm. Mmm. È una buona... Cioè, fai bene a pensarlo. È una buona idea, certo. Io non vorrei dirti nulla, ma è appena scoccato il sesto minuto, caro. Ok, 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 ho fatto, ho finito, ho finito. Va bene, va bene. Finito. Tu, Anna, sei pronta? Hai finito anche tu? Eh, sì, più o meno. Che furbi, hanno sfruttato le colline che avevano già. Anna, ti vedo. Anna, ti vedo. Anna. Che sta facendo, Anna? Ha continuato a costruire. Guardali, guardali, guardali. Ma anche io sto continuando a costruire. Brava, 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 brava. Vabbè, tempo. Va bene, mi fermo. Mani in alto, tutti con le mani in alto. Mani in alto, tutti i verbi. Nessuno si muove. Ok. Siamo pronti. Sì. Adesso, tecnicamente, arriva la parte virulenta della questione. Il muro di barriere invisibili cadrà. Ok. E tutti noi due ci dovremo affrontare. Il primo che riuscirà a catturare la shulker box avversaria avrà vinto. Solo se c'è la propria base. Perché se vengono rubati in contemporanea, torna il pareggio a senso opposto, giusto? Funziona così? Oh no, no, no. Speriamo di non capitare in una situazione così. Va bene, va bene. Però bisogna essere furbi questa volta. Allora. Ok. Ascolta me. Uno deve stare qui a controllare tutto il tempo. L'altro cerca di fare la missione stealth. Ti lascio a te ad andare a fare la missione stealth. No, vai a farla. No, 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 Fere, filati. No, non la voglio fare. Fere, devi. Vado. Parto. Sì, 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 sì. Fai tutti i giri strani. Fai cose strane. Aspetta, cerco di non farmi notare. Aspetta, ma l'Ion sta sempre guardando. No, no, no. Ce l'hanno con me. Ce l'hanno con me. Li sto distraendo entrambi. Li sto distraendo entrambi. Puoi stare tranquilla. Anna sta nascosta tutto giù. E anche l'Ion... Allora, sto cercando di fare il giro dalla sinistra. Quindi tu me lo devi un attimino distrarre. Ok? Corro. No, cavolo, mi vede. Faccio finta di tornare. Ok. Allora, l'Ion è appena sceso. L'Ion è appena sceso. Vuole fare il giro. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sto facendo il giro alla destra adesso. Vado, vado. Corro, corro. Fai, io non sono bravo con l'arco. C'è questo problema. Dove lo avranno nascosta? Non ho idea. Non ho idea. Cavolo, Anna mi ha visto. Scappa, 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 scappa. Cavolo, picchia poi, Anna. Capito? E lo so che picchia. Ti picchia. Ok. Ok, mi nascondo. L'ho mancato. Ok, l'ho colpita, l'ho colpita. Fere, sto picchiando l'Ion. Sono uno contro uno. No, mi vuole colpire con le frecce. Lo sto massacrando. Sto colpendo Anna, vai, 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 vai. Aiuto. Sto cercando di colpirti le spalle. Dov'è? Anna arriva. No, cavolo, va pestando Anna. La sto colpendo. E basta, e basta, e basta, e basta. Ok. U, ho ucciso Anna. Ok, perfetto. Dammi una mano con l'Ion. Arrivo. Vai, picchialo. Dov'è, dov'è? Cavolo. Picchialo. Picchialo. Sta scappando. Fere, sta scappando. Ok, lo sto pestando. Ok. Allora, l'hanno nascosta in mezzo alle colonne, Fere. Ci serve... No, sono già riavati. Ok. Fere... Quindi qua dici? Sì, da qualche parte. Continua a cercare. Fere, torno in base, torno in base. Ok. Che magari loro stanno andando a prendere la nostra. Non ho idea. Vai per sicurezza. Come si esce da qui? Vado, vado, vado. No, mi stanno... È difficile, è davvero difficile. Cerco di scappare. Cerco di scappare. Ok, sto scappando. È impossibile, non la troveremo mai, Steph. Oh, mamma mia. Ok. Ok, in tutto a posto. Sono scappato, sono scappato, sono scappato, sono scappato. Fare io non ho idea di dove l'hanno messa. Io non ho idea... Non lo so. Di dove l'hanno messa. Ho controllato un po' la sinistra e un pochino alla destra e non l'ho vista. Eh, magari è ben nascosta, hai capito? Quindi ti è sfuggito anche un solo angolo ed era proprio lì. È difficile, è difficile. Loro non se lo stavano aspettando, ma io li ho un po' studiati. Ok. Cos'è il dedotto, Steph? Che secondo me è nella parte di destra dove stavo iniziando a scavare. Perché mi sembra che lì abbiano rimesso qualche scatola. Ok. Come se la volessero nascondere. Quindi ho questo presentimento. Staremo a vedere, perché non ne sono sicuro, però ho questo presentimento. Io ogni volta che metto la testa fuori dal nostro furtino, mi vedo Anna che mi sta puntando una frezza. Sì, lei non sta correndo, è da noi, è da noi, è da noi, è da noi, è da noi. Ok, aspetta, aspetta. Lo vi sto correndo, lo vi sto correndo. Devo andare a picchiarlo. Vai, vai tu, vai tu, vai tu. Eccolo, eccolo, guardalo. È tutto tuo. Mi fa malissimo. E Fere, mi raccomando, eh. Ma che mi raccomando, dai. Mi raccomando. Mi raccomando ad aiutarmi. No, l'ho mancato. Ok. Sta scappando? Se ne va, se ne va, se ne va. Ok, 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 ok. Forse si stava avvicinando anche Anna, eh. Stai attenta, Fere. Stai attenta. Guardali, 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 guardali. Eh sì che li vedo. Sono qui dietro, sono qui dietro. Io voglio provare a fare qualche giro, quindi mi dici che conviene dalla destra, vero? Aspetta. No, Fere, aiuta. Dammi la mano. Ma perché ti metti in queste situazioni? Fere. Ok, 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 scappo, scappo, scappo. Anna l'ho presa alle spalle e gli ho atto tre colpi e secondo me gli è venuto un infarto. Ricordano il video per vedermi quella scena. Vuole entrare. Lo picchio. Puntano proprio quel lato. Ok, lo massacro, lo massacro. Ah, c'è che Anna. Aiuto. Muori. Arrivala. Muori. No, mi sta distruggendo. Ok. Ci sei? Eh sì, io sono uno contro uno con Lion. E io con Anna. Ci stanno picchiando tutti e due da diversi lati. Ok. Ok, ti è scocata. Lion, smettila. Mi stai facendo muo... Non mi ha ucciso. Fere, mi ha ucciso. Attenta. Ok, no, 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 no. Difendi il fortino, difendi il fortino. Lui secondo me vuole entrare. Ah, stanno controllando lì. Ok. Non sapranno che lì non c'è. Anna, la butto giù. La butto giù a Lion. Lo puoi fare questo? E muori, Anna. Ma quanto resistente. A Lion, cioè, non muore mai. Impossibile, impossibile. No, no, no. Ok, Anna è giù, Anna è giù, Anna è giù, Anna è giù, Anna è giù. Allora. Oh, Lion continua a pestarmi. Se ne va, se ne va. Ok. Guarda, guardalo, guardalo. Riesce a difendere? È più o meno. Dove sta andando? Non lo so. Lo ciro tutti e due addosso. Guardalo, sta frugando qui dentro. Fere, non vedo più. Dove sei finito? Mi sono... Perché sto sempre da sola a combattere? Torna qui. Mi sono bloccato. Sto cercando di scoprire... Io vado all'attacco. No, 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 no. Lion, 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 Lion. E ci affrontiamo, e ci affrontiamo. Uno contro l'altro. Vieni qua. Vieni. Adesso scappi. Che è vero. Prima mi colpisci. Io sto scavando qui, te lo dico, eh. Poi scappi. Così funzioni, Lion. Ma sta qui dentro. No. No. Dannazione. Ma sei morto? Torno, sì, 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 sì. Allora, io sto provando a scavare nella loro base. Ok. Però tu devi tenermi un attimo d'occhio, la nostra, ok? Devo andare tranquilla. Perché non mi hanno visto, non mi hanno visto. Eh sì. Anche se poi non ho idea se sia qui dentro o meno. Ma ti devi muovere, perché loro stanno scavando entrambi nella nostra base. Oh, mi ho visto Anna. Scappo, 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 scappo. Non lo vado a fare, scusate, me ne vado. No, 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 no. Allora, ho provato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. La devo incastrare lì. Ok, ho buttato la sua spada per spagno. Ma come? Allora, ti dovevo aggiornare. Ho provato al cumulo dalla destra, destra verso la loro base. E non mi è sembrato di vedere niente. Però devo dire che ci sono davvero tante scatole di cartone. Quindi potrebbe ancora esserci qualcosa. Non lo so, Steph, non ho indizi. Ti dico la verità, non ho indizi. Ma anche io, Fede, non ho proprio idea di dove sia. Devi venire ad aiutarmi. Ho trovato qualcosa? Beh, io sto cercando, eh. Io sto cercando la grande, però non trovo nulla. Non so cosa fare. Aiutami, ti prego. La Yu mi sta picchiando a pugni. Sì, perché lui ha rotto la sua spada con me. Ah, la trova, la trova, è nella zona giusta, te lo dico, eh. Sì? Sono entrambi nella zona giusta, quindi devi venire ad aiutarmi. Io non so perché tu non ci sei mai. Perché sto cercando. Perché non ci sei mai. Perché sto cercando. L'hanno trovata, ma se l'hanno trovata che devo fare? Guarda, sta scappando. La devo uccidere? Eh sì. Dov'è? Che scappa nella sua base, con la scatola. Ok, cerco di bloccarlo. No, ce l'ha. Base. È una persona terribile, non c'è mai ad aiutarmi, non è mai con me. No, 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 no. È a non fare nulla tutto il tempo. Mi dovete dire in questo esatto istante dove cavolo l'avete nascosta. Qui. Dove? Qui è. Dove? Dove? Guarda, 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 neanche lui la trova, guarda. Eccola. Ho guardato ovunque, è vero che è là. Non ci posso credere. È stato bellissimo. Io ero due ore che gli dicevo, sono nella zona giusta, vieni ad aiutarmi. No, aspetta, che sto cercando. Voi mi avete un botto ingannato, perché io scavavo sempre in quel cumulo di là, e ogni volta vedevo che voi arrivavate, mi picchiavate. E l'ho fatto apposta per sviarti, l'ho fatto apposta. Eh, e stava funzionando, però poi ho detto, ma stiamo a scavare, stiamo a scavare, non c'è mai. E infatti era lì, era. Cioè, ci siete stati. L'avete nascosta bene. Sono trattissima. E anche voi. È stato bello. Ha detto, guarda, era assurdo. Gli dicevo, vieni che sono nella zona giusta, e lui, no, no, aspetta, che sto scavando. Aspetta, che non ha combinato nulla. Ho scavato. La parte più difficile era che le scatole erano un botto, e noi, tipo, quando cercavamo di ucciderci, siccome, difficoltà bassa, prendevamo un sacco di rigenerazione, era impossibile ammazzarsi. Io ho finito l'armatura, ho finito la spada, le brecce. Anch'io, anche ho finito la spada, ho finito tutto. Per ragazzi, lasciateci un like. E' la prima volta che avete il nostro video, potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.